Si apre qualche flebile spiraglio di luce per i dipendenti del Consorzio Formula Ambiente di Chieti. Nella giornata di ieri, mercoledì 27 febbraio, sono partiti infatti i mandati di pagamento degli stipendi. Permane comunque alto l'assenza di insicurezza dei lavoratori. Ne ha dato notizia Giuseppe Rucci della FP CGL che proprio stamani ha preso parte all'assemblea convocata presso gli uffici del Consorzio Formula Ambiente in Viaterno a Chietiscalo per la sottoscrizione delle verbale di chiusura con i vertici dell'azienda che, lo ricordiamo, gestisce il servizio di igiene urbana in città. Ma la situazione rimane molto complicata, nel senso che oggi l'azienda ci ha comunicato che ad oggi i 300 mila euro, che era un impegno assunto dall'amministrazione che dovevano arrivare entro oggi, non sono ancora arrivati, ma da comunicazioni di questa mattina pare che possono arrivare entro la settimana prossima. Ciò nonostante comunque l'azienda provvederà al saldo delle retribuzioni, quindi del mese di gennaio in giornata, nonostante non siano arrivate queste risorse e quindi rimane una situazione di difficoltà. Tenete conto che noi comunque ci siamo riaggiornati nei prossimi giorni per una verifica puntuale della situazione perché il tema rimane quello delle prospettive future, in quanto entro il 31 marzo l'impegno assunto dal Comune era quello di versare ulteriori 2 milioni e 500 mila euro per capire come andare avanti. Quindi la situazione ad oggi rimane molto incerta. confermiamo anche a questo punto il fatto di voler far restare il tavolo prefettizio per andare a discutere di tutto il resto, anche perché ad oggi l'azienda ha momentaneamente sospeso la procedura di cassa integrazione in attesa di sviluppi. Sul servizio offerto in città potrebbero esserci delle ripercussioni? No, ad oggi assolutamente no, quindi è stato garantito, verrà garantito, nonostante i lavoratori non abbiano percepito lo stipendio ma continuano a lavorare in modo molto corretto, eventuali ripercussioni potrebbero determinarsi qualora la cassa integrazione venga attuata e a quel punto sarà il prefetto che dovrà individuare i servizi minimi e quindi dei problemi ci saranno.